Ben ritrovati, vi ricordo che qualche mese fa è uscito questo mio ultimo libro, L'intuizione consapevole, come Sofia libera dalla filosofia, edito da Foschi, editore del gruppo Rusconi. Eccolo qui, lo trovate in tutte le librerie online e fisiche, se non lo trovate lo potete ordinare e il libraio lo può far arrivare. Perché questo libro? Ma questo libro è il frutto di una serie di studi che ho condotto, di letture che ho fatto nel corso degli ultimi anni, che mi hanno portato a riflettere sul ruolo della filosofia, sulla storia della filosofia. La storia della filosofia che noi vediamo in Occidente è fortemente caratterizzata dal fatto che è incentrata sul ruolo della ragione, sul ruolo della razionalità. Ah, poi dall'età moderna anche la razionalità strumentale. Ora, è chiaro che la filosofia non è soltanto questo, il pensiero non è soltanto questo. Già Platone ci avvertiva che filosofia significa amore per la sapienza, ma non è la sapienza. Allora io in questo libro avanzo una tesi, un'argomentazione, cioè che è necessario recuperare una sapienza pre-filosofica. La filosofia è interessante, la storia della filosofia è interessante e per certi aspetti anche edificante, ma quello che è ancora più interessante è tutto quello che c'è prima della nascita della filosofia. Paradossalmente noi facciamo nascere la filosofia nella Grecia classica e con Platone, ma dicevo, Platone è uno dei primi a dirci, che la filosofia è una sorta di decadenza della sapienza, cioè è un amore per la filosofia. Noi dovremmo ritornare a quella che è la sofia, cioè la sapienza. E come si può fare questo? Beh, questo si può fare andando a ritroso sotto certi aspetti nella storia della filosofia, riscoprire quella sapienza che viene prima della filosofia, quella sapienza che fa parte di tutta una serie di eredità culturali che caratterizzavano l'Europa prima della nascita della filosofia, perché che se ne dica nelle scuole, nelle accademie, nelle università, la storia del mondo, o in particolare dell'Europa, non è che inizia con i greci, non inizia con i romani. Noi abbiamo millenni di storia precedente. Che cosa succedeva a livello concettuale di pensiero culturale in questi millenni purtroppo non è dato saperlo, perché molte volte gli insegnamenti scolastici iniziano solo dai greci e dai romani, al massimo dagli assiri e dai babilonesi. Ma c'è tutta una cultura, soprattutto nella Grecia, che noi chiamiamo classica, che ha prodotto pensiero, che ha prodotto un approccio alla realtà, alla spiritualità. E questa può essere definita anche sapienza, cioè un rapporto tra, diciamo così, il mito e quello che è la realtà. E infatti, e infatti Platone, lo ripeto, lo stesso Platone, nella lettura che ne dà Giorgio Colli, che è un'altra suggestione molto presente nel mio libro, Platone dice effettivamente che la vera comunicazione è quella che si fa bocca-orecchio, quella che veniva tramandata oralmente. Nel momento in cui nasce la filosofia, nasce la scrittura, nasce la parola scritta, nasce quella forma di comunicazione filosofica che giunge fino a noi, che poi si è evoluta ovviamente in dialettica e in razionalità discorsiva. Ora questo, in un certo senso, ci ha allontanato dalla sapienza. E la tesi di questo libro è esattamente questo, un invito a riscoprire una sapienza che è prefilosofica, che viene prima della filosofia, che però, attenzione, è molto utile alla filosofia stessa. Perché se la filosofia, essendo comunque amore per la sapienza, perché oggi purtroppo la filosofia è diventata un commercio e quindi non è nemmeno più amore per la sapienza, figuriamoci se può essere sapienza, e però la sapienza che può essere riscoperta, diciamo, in un periodo prefilosofico, ecco, quella sapienza può aiutare di molto la filosofia stessa, la può informare, gli può dare forma, cosa che nella storia purtroppo non è accaduta, perché la sapienza è stata estromessa immediatamente per motivi storici, per motivi sociali, per motivi culturali e anche di egemonia, è stata estromessa dalla cultura. Quindi la cosa interessante da fare è proprio riscoprire una sapienza prefilosofica e questa è la tesi fondamentale di questo testo e potete leggere l'intuizione consapevole, una sorta di conoscenza che avviene in maniera intuitiva anche, la sapienza come Sofia, libera dalla filosofia, lo trovate in tutte le librerie fisiche e online. Grazie a tutti, vi do appuntamento, alla prossima.